Un bando per sostenere il mondo dello sport toscano in questo momento in cui iniziano le riaperture ma la pandemia di covid-19 non è ancora alle spalle. La giunta regionale ha stanziato 1.861.000 euro per aiutare le associazioni sportive e direttantistiche, le federazioni per la gestione di impianti sportivi, gli enti di promozione sportiva e anche i comuni che fanno iniziativi di sport. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni che è la delega allo sport ha spiegato che l'importo del contributo non potrà essere superiore a 5.000 euro. Lo sport è un capitolo importante, è stato uno dei capitoli diciamo più sacrificati per un fatto probabilmente naturale delle cose, le restrizioni portavano a evitare la frequentazione, il contatto che avviene nello sport attivo e passivo, quello che si gioca su un campo o si pratica direttamente ma anche quello degli spettatori all'evento sportivo. Si tratta a questo mondo di sostenerlo perché possa ripartire. Complessivamente la regione toscana mette a disposizione 1.861.000 euro, così suddivisi 1.561.000 euro a favore delle associazioni e delle società sportive e direttantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni e di tutte le altre associazioni o soggetti privati senza scopo di lucro. 100.000 euro per gli enti pubblici e 200.000 euro alle associazioni e alle società sportive che hanno tra i tesserati atleti olimpici o parolimpici.